Il 1819 fu un anno noioso. L'epoca napoleonica era terminata, la restaurazione aveva restaurato quel che doveva restaurare e quell'anno era un anno di attesa, ma una cosa fu compiuta quell'anno, una cosa che poi ha influito sulle vostre vite e sulla mia vita. A Re Canati, Giacomo Leopardi, completa la stessura dell'infinito, esattamente 200 anni fa. Ed è piuttosto suggestivo pensare che 200 anni ci separano da Leopardi e 200 anni separano Leopardi da Galileo. Ricordate tutti l'infinito, sempre caro mi fu questo ermocolle e questa siepe. Ecco, la siepe. Il genere umano di fronte a una siepe si divide in tre categorie. Quelli che la siepe neanche la vedono. Quelli come Giacomo Leopardi, che usano la siepe come vincolo creativo, immaginano, vedono oltre la siepe. I fisici teorici fanno parte di questa categoria. E poi ci sono quelli che la siepe, beh, loro si armano di motosega e la falciano. Gli ingegneri e i fisici sperimentali fanno un po' parte di questa categoria. Leopardi era certamente un fisico teorico. Meno teorico di lui era appunto Galileo. Galileo non appena sente, nell'agosto del 1609, che un certo fiammingo aveva costruito un occhiale speciale per mezzo del quale le cose lontane si vedevano vicine, beh, si mette a provare a ricostruirlo, a migliorarlo. Si trovava nella Repubblica di Venezia, i Veneti erano bravissimi nel lavorare il vetro. E questo cannone occhiale aveva bisogno di due lenti, una all'inizio e una alla fine, e poi di un tubo, un tubo che Galileo insieme agli artigiani veneti fa di piombo. Pensate alla maneggiabilità dello strumento. Una volta costruito un buon cannone occhiale, come si chiamava all'epoca, beh, Galileo è una persona pratica. Lo vende al Doge, lo vende al Doge di Venezia perché per la flotta di Venezia, che trasporta mercanzie per l'Adriatico, è fondamentale vedere i pirati prima che i pirati vedano la flotta stessa. È uno strumento di difesa straordinario, enorme. Ma Galileo fa anche un'altra cosa, come sapete, lo punta verso la Luna. Lo punta verso la Luna e usa, in modo rivoluzionario, la geometria, la geometria di noi terrestri per misurare qualcosa che doveva far parte del Regno di Dio. L'universalità della matematica, l'universalità della fisica. E poi fa un'altra cosa, beh, osserva Giove, entra una Giove e scopre le prime lune diverse dalla nostra. Ma secondo me la cosa più geniale che fa Galileo è puntare il telescopio fra stella e stella, nel buio assoluto. Chi l'avrebbe fatto? La cosa straordinaria è che Galileo scopre nuove stelle, tra stelle visibili ad occhio nudo. Ed è facile pensare che nel momento in cui il telescopio fosse migliorato, telescopio come si chiamerà da lì a qualche anno, tra quelle stelle viste da Galileo con il suo cannone occhiale ce ne sarebbero state altre. Perché è importante questo? Perché, vedete, la sfera celeste, che era allora la siepe mentale che l'umanità aveva, e oltre la quale, diciamo, non si immaginava niente, in un certo senso, era il fine ultimo, il termine dell'universo, bene, questa siepe diventa talmente punteggiata di stelle, che è un po' come se fosse un groviera pieno di buchi. La struttura non c'è più, si dissolve la sfera celeste, si dissolve la siepe attraverso uno strumento e attraverso grande creatività. È difficile dire se Galileo fosse più ingegnere o più fisico teorico. La cosa cambia, ma non troppo. Negli anni alle lenti si sostituiscono gli specchi, tante correzioni vengono apportate ai primi telescopi galileiani, si fanno strumenti molto più potenti, ma la sostanza dello studio astronomico non cambia tantissimo. Nel 1785 William Herschel, proprio contando le stelle e la loro densità, un po' come aveva fatto Galileo con il suo primo telescopio, diciamo, riesce a mappare, a costruire le zone celesti dove le stelle sono più dense. Ricrea, insomma, un'altra sfera celeste, solo che non è sferica e non è celeste. È la galassia, è la nostra galassia, ma ha ricreato dei confini all'interno del quale l'uomo, Homo sapiens, come ama a chiamarsi, vive e si identifica. Tant'è vero che Herschel mette il Sole e il sistema solare essenzialmente al centro di questo grande sistema galattico. Nello stesso anno, negli stessi anni, vedete siamo negli anni della rivoluzione francese, Charles Messier compie un catalogo di oggetti nebulosi, non puntiformi. Lui stava cercando delle comete, ma scopre in cielo e cataloga tutta una serie di corpi che non sono puntiformi, appunto, che hanno una strana consistenza eterea, lasciatemelo dire così. E' questa l'astronomia in cui Leopardi si muove. E' l'astronomia in cui la siepe è rappresentata da la galassia, che ancora, diciamo, non è completamente compresa, e tante nebulose che non si sa che cosa sono. Galileo, Leopardi, scusate, le chiama, quando scrive alla Ginestra nel 1836, un anno prima della morte, nodi di stelle. Dove sono? Dove si trovano? Dovevano passare ancora molti anni prima che questi nodi di stelle siano risolti in altre galassie, e l'universo prosegua la sua espansione mentale. Serve il lavoro di tante persone, non più un Galileo, diciamo. Erietta Leavitt, per esempio, scopre che nelle galassie, nelle nubi di Magellano, esistono delle stelle che hanno una luminosità variabile, si chiamano cefeidi, e questa luminosità è tale per cui quando variano con un certo periodo, beh, questo significa che hanno una certa luminosità, sempre quella. E se tu vedi stelle che variano con lo stesso periodo, ma una è molto più debole dell'altra, significa una cosa soltanto, che quella più debole è più lontana. è un modo per iniziare a misurare le distanze, e capite bene che una volta che si impara a misurare le distanze nell'universo, non c'è più una sfera celeste, non c'è più un confine, o, diciamo così, si apre la strada al fatto che non ci possa essere più. È quando Hubble scopre la prima cefeide, o le prime cefeidi, nella cosiddetta nebulosa di Andromeda, che si capisce che abbiamo imparato a costruire una scala per guardare oltre la Via Lattea. Si impara che le galassie sono molto più di quelle che si pensa, non sono dentro la nostra sfera galattica, sono fuori. Facciamo adesso un grosso salto, un salto fino alla metà degli anni Sessanta, più o meno, all'inizio degli anni Sessanta, quando due astrofisici stavano costruendo, stavano provando a montare una grossa antenna, un radiotelescopio, sui monti Appalachie in America. Loro provano a montare questa antenna, ne analizzano il segnale e sentono uno strano rumore che non dovrebbe esserci, uno strano segnale che non dovrebbe esserci. Allora provano a orientare l'antenna in un'altra direzione, ma ancora quel segnale continua a sussistere. Pensano che l'antenna sia sporca di materiale, per esempio di elettrico, scoprono che dei piccioni avevano fatto il nido in quell'antenna, non è difficile da immaginare. Li scacciano, i piccioni tornano, li scacciano, i piccioni tornano, gli sparano, i piccioni non tornano. Bene, attraverso le osservazioni di questa antenna scoprono che quel rumore che loro sentivano non era altro che un segnale, un segnale che proveniva dal cosmo, che però proveniva da ogni direzione del cosmo. È la scoperta di quella che poi sarà chiamata radiazione cosmica di fondo. Ed è una delle prove più forti che oggi ci parlano di questa fase iniziale del nostro universo che è chiamata Big Bang. Sostanzialmente il Big Bang dopo la sua nascita era talmente opaco che la luce di cui era costituito, insieme alle particelle di cui era costituito, bene, la luce non aveva la possibilità di espandersi, di muoversi, di percorrere l'universo. Quando l'universo incomincia ad essere abbastanza grande, diventa anche abbastanza trasparente. Bene, quella è la prima luce che emerge dall'universo, che diviene trasparente a se stesso. C'è un fatto, però, che questa è una specie di siepe definitiva. Se quella è la prima luce che riesce a oltrepassare l'universo, è diventato trasparente a se stesso, significa che anche l'ultima luce che possiamo prendere, attraverso i fotoni, attraverso la luce, non è possibile vedere oltre. Tant'è vero che la scienza che si chiama cosmologia, da osservazioni di questo tipo, ha avuto una fioritura straordinaria, perché bisogna immaginarsi che cosa c'era prima. Finisco questa storia di siepi, perché l'incontro che abbiamo qui stasera vi parlerà di altri metodi che ci permettono di provare a osservare oltre quella siepe. Ed è davvero un momento straordinario nella storia della scienza, perché per la prima volta, vedete, noi abbiamo la possibilità, da una parte, avendo scoperto tanti pianeti intorno a stelle diverse dal Sole, di cercare in modo concreto terre e mondi simili alla nostra, forme di vita, possibili o non possibili, e abbiamo la possibilità di provare a capire davvero di più della struttura del cosmo nel quale siamo. Ora, io non lo so a quale categoria voi appartenete rispetto a una siepe, se non la vedete, se vi piace immaginare oltre la siepe, oppure se prendete una motosega e la spianate. In ogni caso, quello che vi chiedo è di fare come Felix, di cercare di agire nel corso della vostra vita per lasciare il mondo un po' migliore di come l'avete trovato. Grazie. Grazie.